Un caro augurio di buon anno, di buon 2023 a tutti i nostri tifosi. Ezzon Arantes donascimento, Pelé, il saluto e l'onore e l'omaggio di tutto il calcio. Un minuto di silenzio alla vigilia di Salernita Ramea. Giroudi prima bella per Isma, Isma dentro per Rafa, Rafa, Rafa prova ad andare, Rafa, Rafa se ne va, Rafa se ne va, Rafa se ne va, la parata di Ochoa. Grandissima azione di Rafa Leao. Tonali alla grande per Rafa, 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 porta vuota Rafa, la mette in mezzo Rafa, è il gol del Milan, è il gol del Milan, è il gol del Milan, Rafa è il Leao. E' andato via Ochoa, la messa morbida sotto la curva rossonera. Rafa, Rafa contro Radovanovic, se ne va Rafa, se ne va Rafa, mette in mezzo Rafa, anticipato Giroud, ancora Tonali, il tiro, Sandro, la parata di Ochoa. Braim Diaz, Braim Diaz, Sandro ancora, gol! Il 2-0 del Milan, Sandro Tonali, Sandro Tonali! E quando Sandro segna in trasferta il nostro cuore è leggero, vola i nostri ragazzi! Eccoli! Dia a sua volta per San Biato, nata sulla Salernitana. Attenzione, libero, libero completamente, è grandissima l'entrata di Tomori che devia in calcio d'angolo. Adesso c'è Cala che prova a servire Olivier, Olivier aspetta, Olivier aspetta, Olivier aspetta! Palla larga per Rafa, Rafa può andare, Rafa può andare, la mette in mezzo, Giroud, colpo di tacco, Braim! No! Sembrava colpo sicuro anche questo, invece si è immolata la Salernitana, Braim sfiora il palo. Stra pericoloso ancora il Milan. Palla dentro, bella, Rafa, 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 colpo di tacco, incredibile, 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 incredibile! Più che di fremito, colpo di testa di Giroud, bellissimo a rientrare per Alexi, Alexi tiene palla in campo, vediamo, vediamo Alexi, si avvicina all'aria, Alexi, dentro, Giroud, Giroud, porta vuota fuori! Porta vuota fuori, bella palla, deviazione, Calulu, gol, gol, finalmente entra! E non entrava mai, e non entrava mai! Andiamo? Non nulla, non nulla, fuori gioco. Tonali, la larga per Olivier, il tiro di Olivier, la grande parata, due parate pazzesche, anche sul tiro di Charles da parte di Ochoa, due parate pazzesche! Attenzione alla Salernitana, attenzione, il cross, attenzione, no, 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 no! 90 occasioni per fare il terzo e poi segna Bonazzoli. È finita! Abbiamo vinto la partita strameritata! Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti!